benvenuti ragazzi a watching time oggi 24 di dicembre vi mando questo video anche video saluto di buon natale a tutti voi e spero che la passate in famiglia con i vostri cari in una situazione ovviamente di salute il tempo e il periodo è quello che stiamo vivendo inutile soffermarci troppo però dall'altra parte era atteso almeno da me era molto attesa che sarebbe successa una cosa simile a quella che stiamo vivendo adesso anche perché inutile negare un po il contesto della situazione ed era chiaro che prima o poi ci sarebbe stata una variante e che prima o poi con le regole che stiamo seguendo ci sarebbe stata un'impenata dei casi per fortuna stiamo abbastanza bene rispetto ad altri ad altri contesti di altri paesi però adesso dipende molto da noi per cui vi invito a continuare a utilizzare le misure di prevenzione utilizzare delle mascherine preferibilmente quelle fvp2 perché quelli chirurgiche servono a poco niente purtroppo se ne parla anche poco di questa cosa e di farvi i vaccini i vaccini e le dose giuste per proteggervi sono delle misure totalmente sane e abbiamo oggi una conferma ancora più importante di quanto siano state importanti le vaccinazioni perché pur avendo dei casi che sono in aumento esponenziale il numero di morti sono grazie al cielo ancora ridotti rispetto agli stessi il numero di casi e i morti di altri periodi per cui continuate a vaccinarvi e veramente vi auguro che in famiglia fate la massima attenzione come sempre perché purtroppo il virus entra dentro casa anche dalle persone che meno ci aspettiamo questa è una realtà che si sta vedendo tantissimo il fatto che sia un parente non vuol dire che sia sana la persona ma inevitabilmente crea una fiducia da parte delle persone intorno fate molta attenzione e spero veramente che fate un bellissimo natale in famiglia in salute e con i vostri cari per cui lasciando il natale a parte vi volevo presentare e parlare almeno in questo video di questo orologio ci sono diversi orologi che ho aggiunto alla collezione vi farò vedere il video magari nelle prossime settimane mi auguro prima del fine anno visto che ci sono diversi pezzi interessanti per esempio questo Christopher Ward verde GMT C60 abbiamo questo orologio della Younger Bresson molto interessante che anche nasce da una campagna di Kickstarter ma non è altro che un gruppo parte del gruppo Yema ho ritenuto che era interessante perché anche il designer dietro questo modello è uno dei designers che lavora nel gruppo di Richard Mill per cui anche l'ispirazione è molto chiara ed evidente però ne parleremo sicuramente in altri video ce ne sono anche altri orologi di cui vi farò vedere più avanti ritorniamo al nostro parliamo del Hamilton Limited Edition per il nuovo film di Matrix il Hamilton PSR era già stato lanciato l'anno scorso la prima nuova versione del PSR ovviamente lasciando a parte il fatto che si ispira moltissimo al design originale del Pulsar primo orologio elettronico all'epoca proprietà Hamilton che oggi non è più proprietà della Hamilton se non mi sbaglio ma vado a memoria ragazzi è proprietà Citizen in questo momento Pulsar però al di là di chi è proprietario o meno Hamilton ha rilanciato il modello già l'anno scorso il PSR con il logo Hamilton piuttosto che quello Pulsar cassa di 40,8 34,7 di misura adatto a quasi tutti i polsi la versione originale è in acciaio con il sottofondo del quadrante rosso e lo schermo LCD in questo caso troviamo lo schermo LCD di colorazione verde insieme al fondo vetro saffiro molto molto bello e adeguato in correlazione a quello che omaggia che sarebbe il nuovo film Matrix ma soprattutto l'anniversario di Matrix con il rilancio del nuovo film dal primo film che era stato lanciato nel 1999 come sapete bene il PSR presenta pochissime funzioni e in realtà è solo un tempo per essere un orologio al quarzo digitale potrebbe magari aver presentato tantissime altre funzioni in questo caso non lo è e presenta solo la funzione del segnatempo un doppio schermo appoggiato uno sopra l'altro di LCD e LED permettono che quando uno va a premere il bottone si accendano i LED per cui rendendo immediatamente luminoso il quadrante è visibile anche al buio cosa che l'LCD non è ha una caratteristica molto particolare che dipendendo da come inciderà la luce sarà meno o più visibile lo schermo LCD a punto tale che in alcune incidenze della luce sembrerà quasi come se fosse accesso è un po' questa la sensazione che mi dà a me quando lo porto nel polso e ovviamente al buio non si vede assolutamente per niente se premiamo il bottone per in qualunque momento lo schermo a LED si accende e rimette questa bellissima colorazione verde benissimo andiamo e passiamo al bracciale e alla cassa che sono sempre molto comode e le stesse utilizzate nel PSR del 2020 solo che in questo caso li troviamo con un trattamento DLC nero che lo rende molto più particolare se a mio gusto penso che sia carino il fatto dell'utilizzo del colore nero anche in relazione a quello che omaggia che è il film di Matrix se ricordiamo a Neo e gli altri personaggi e l'utilizzo di quei cappotti neri che sono diventati iconici e dietro troviamo un design molto particolare che ricorda il film con queste scritte, queste lettere che sembrano aleatorie totalmente che ricordano le lettere di Matrix però come vedete hanno incluso dentro diverse parole che vanno a descrivere quanto loro vogliono fornire da un punto di vista di informazione a chi ne ha acquistato l'orologio per cui abbiamo Swiss Made, abbiamo Hamilton, Limited Edition la numerazione su 1999 pezzi water resistant per cui 30 metri poi abbiamo qua 10 bar no scusate 100 metri perché ho detto 30? water resistant 10 bar 145 PS il numero del modello è l'H524340 come vedete una serie di informazioni nascoste dentro la matrice molto particolare, molto bella e per vostro godimento visto che si appoggia al polso ma penso e ritengo sia un dettaglio molto interessante per chi è magari amante dei film e dall'altra parte gli piace questo modello PSR ho voluto inserirlo nella mia collezione da una parte perché già l'anno scorso volevo inserire quello classico ne ho la versione vintage di qualche, sì, quasi 20 anni fa prodotta per i Men in Black 2 però è una versione molto diversa non si ispira totalmente a quella originale anche il cinturino è molto futuristico c'è questa attività, questa sensazione almeno ricorda molto i Men in Black e lo schermo è un schermo LCD normale quando hanno rilanciato il nuovo PSR l'anno scorso ho ritrovato che era un modello molto particolare soprattutto con la funzione di illuminazione LED è vero che è una tecnologia ormai obsoleta però è un bel vintage revival che penso Hamilton abbia fatto ricordando quella che era a loro origine questo modello che ha fatto è stato comunque un'icona dei modelli elettronici i primi orologi elettronici per cui è un bellissimo orologio e con questa limited edition ho deciso di aggiungere la collezione perché sicuramente è un pezzo più particolare e interessante a quello originale anche con una tiratura limitata ma soprattutto la colorazione che mi piace tantissimo è molto azzeccata e poi sono anche un appassionato dei film Matrix che sono usciti in passato per cui ci sta tutta bene ragazzi spero che vi sia piaciuto ah facciamo la foto al polso così potete vedere più o meno come si ritrova io di solito come ormai sapete chi mi segue da un po' a volte mi dimentico delle cose che vi voglio far vedere come vedete il polso è molto comodo rimane dentro quello che è il diametro almeno nel mio polso è di 18 centimetri in maniera molto sobria ma anche interessante da un punto di vista stilistico e ridà questa sensazione vintage, moderna ad un orologio che secondo me ha fatto un seno importante nelle storie ancora a tutti un grandissimo augurio del Buon Natale vi faccio vedere ancora questo bellissimo pezzo a me non è che mi fa impazzire Christopher Warren parleremo in un video a parte quale sono le mie impressioni le mie sensazioni del marchio ma vi devo solo anticipare che la lavorazione la trovo veramente ottima di ottima qualità il logo fa schifo non mi piace per niente però i dettagli come per esempio il quadrante e questo invecchiamento che hanno fatto sulla colorazione verde e l'utilizzo dei materiali trovo che sia una buona opzione comunque e poi vi farò vedere anche questo bellissimo John Gerbreson che come vi dicevo è un orologio sicuramente da farvi notare benissimo ci vediamo nel prossimo video torno al mio Explorer 2 il più bello perché è la versione vecchia ormai visto che è uscito il modello nuovo che ha l'effetto delle lancette delle ore e dei minuti flottanti perché hanno la parte centrale nera e mi piace molto di più il modello nuovo benissimo un caro saluto a tutti e ancora un gran augurio di buone feste grazie